Altro che due volte, il postino a Bassano suona poco e troppo spesso in ritardo. È quanto ci state denunciando da giorni e se per lettere e normali comunicazioni si può anche sopportare qualche lentezza, diverso è vedersi recapitare una bolletta o un bollettino postale ben dopo la loro scadenza, con il rischio di trovarsi pure costretti a pagare more e sanzioni. E allora, cosa fare? È chiaro che se la bolletta arriva tardi rispetto alla scadenza, io consiglio tutti di andare all'ufficio postale e far mettere un timbro immediato o comunque contestare immediatamente all'ufficio il fatto che è arrivata in ritardo, perché il gestore deve essere provatamente messo a conoscenza che la notifica è arrivata nella data successiva al pagamento. Il timore manifestato da molti utenti è che il mancato pagamento possa provocare il distacco delle utenze. Nessuno si può trovare con lo stacco del servizio senza aver prima avuto una notifica con la mezza raccomandata. Se anche la raccomandata non è arrivata, allora signori a questo punto è un problema grave della posta, allora là bisogna intervenire con la direzione postale. L'Unione Consumatori nelle prossime settimane effettuerà alcune prove di invio per verificare i reali tempi di consegna della posta per poi decidere se e come intervenire. Intanto questo è il suggerimento per chi continua a vedersi recapitare tardi la posta. Oltre a un reclamo scritto da mandare magari a depositare allo stesso ufficio postale o alla direzione postale di Venezia, si può fare il tentativo di conciliazione. All'interno di uffici postali voi potete chiedere allo sportellista che vi dia un modulo da compilare, si compila un modulo e si fa la domanda di conciliazione spiegando i motivi per cui si chiede un indennizzo.